Siamo quindi alla fine e quindi io volevo solamente ricordare che con il termine fragilità non intendiamo solamente le persone che anziane in fin di vita, ma ci sono tutta una serie di persone, pensiamo alla disabilità, anche questa è fragilità, quindi se potessimo considerare tutti da un punto di vista più generale non sarebbe male. Io ringrazio veramente tutti quanti e lascerei per chiudere la parola al professor Andreoni. A livello di conclusione credo che si è documentato quanto sia importante istruire queste reti, quello che manca ancora è uno strumento reale, effettivo e efficace di comunicazione tra tutti i nodi della rete, che qualche volta non si parlano, con danno inevitabile nei confronti dei cittadini, soprattutto se fragili. Volevo dire che il senso di questa riunione plenaria che il rettore Elio Franzini che ha concesso di avere in questa sede prestigiosa era quella di dare vita al programma ospedale territorio con i futuri sviluppi. Allora, faremo di tutto per individuare un'altra sede prestigiosa, che chiaramente non potrà essere sempre l'università, dove tenere una riunione ancora plenaria, magari su un argomento più specifico, perché come avete visto siamo stati generici volendo. E quindi basta individuare, non lo so, ad esempio si è parlato Bergamaschi di sviluppo della medicina territoriale per quanto riguarda le case della comunità. Cosa sono? Come si possono concretizzare? Ci sono i finanziamenti? Un argomento specifico. Oppure qualche altro argomento che potrebbe essere proposto, visto che l'assessore Rabaiotti non si è presentato, potrebbe sviluppare qualcosa relativamente ai servizi, che l'assessorato alle politiche sociali e abitative del Comune di Milano potrebbe sviluppare. Ma non so, visto Vidas che ha questa visibilità così importante a livello proprio cittadino per quanto riguarda le cure domiciliari, potrebbe organizzare qualcosa su questa tematica.